ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi puntata speciale parliamo di sport cosa che fondamentalmente non ho quasi mai fatto e ho con me l'onore di avere un grandissimo atleta che adesso è passato ha finito la carriera d'atleta e è passato diciamo a fare il tecnico quindi è a tokyo insieme alla nazionale italiana e con noi giulio ciotti che ho il piacere di poter intervistare e che ci concede questa intervista perché un mio amico proprio fraterno ci conosciamo da una vita e io ho seguito tantissime gare di salto in alto specialità in cui lui e suo fratello nicola ciotti hanno dominato per almeno dieci anni io mi ricordo che andavo a vedere le partite le gare e fondamentalmente ero ero già contento perché sapevo che uno dei due avrebbe vinto quindi c'era questa cosa che io andavo sapendo già che me ne tornavo a casa contento quindi eccoci qua ciao giulio ciao a tutti ciao jimmy è collegato da tokyo che è cinque ore avanti rispetto a dubai e quindi sette ore rispetto all'italia da te sono le quattro sono le quattro del pomeriggio hai appena ricevuto una hai visto diciamo le congratulazioni per un oro che abbiamo preso ieri abbiamo fatto una riunione di squadra per complimentarci con il marciatore della 20 km stano che ha vinto l'oro bene bene bello 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 grandi emozioni allora la prima domanda che ti faccio è io come dicevo prima ho seguito molto l'atletica quando tu facevi l'atleta perché sono venuto a vedere le gare ad ancona pescara mi ricordo delle gare a torino una volta insomma e ovviamente quello che soffre chi chiama lo sport in generale quantomeno in italia ma anche in tanti altri paesi è il fatto che è quasi tutto focalizzato sul calcio si parla sempre di calcio 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 ogni quattro anni però c'è questo evento sportivo enorme che sono le olimpiadi che è una tradizione occidentale nata in grecia ben 2800 anni fa in cui finalmente possiamo vedere cose belle come il salto in alto stato con l'asta eccetera che si vedono in televisione se ne parla nel talk show interviste sui giornali insomma c'è molto più movimento mediatico ora la mia domanda è c'è un qualche tipo di effetto olimpiadi sui giovani che magari ogni quattro anni sono un po più stimolati a fare questo sport e dedicarsi ad altro che non sia solamente il calcio secondo te allora io direi intanto che quelli che fanno atletica sono c'è anche una pagina instagram di quelli che leggono la gazzetta dal fondo ok perché spesso e volentieri trovi l'atletica nel trafiletto con risultatino forse quando lo metto beh questo adesso non è più perché l'atletica quest'anno è riuscita a vincere al momento tre ori abbiamo vinto praticamente tre ori su su sette che ha portato a casa la spedizione olimpica italiana e questo fatto ha avuto sicuramente un effetto molto importante sui media e sulla stampa perché ci siamo accorti che era successo qualcosa di incredibile 15 pagine della gazzetta le prime 15 quelle che di solito parlano di calcio mercato in questa epoca invece parlavano di noi e noi increduli diciamo cavolo stiamo facendo la storia questa cosa questa cosa si fa piacere però l'effetto lo vedremo l'anno prossimo nelle iscrizioni dei tesseramenti sicuramente dell'anno prossimo ci sarà un improvement perché questa cosa qua spinge spinge molto soprattutto aver vinto la regina della regina degli sport cioè la gara dei cento e già marco tamberi ha vinto loro nell'alto si è sempre stato un trascinatore quindi lui aveva già trascinato al nostro movimento tanti ragazzi però diciamo che vincere la gara dei cento secondo me porterà un bel po di movimento alla nostra atletica alla nostra cara atletica bello 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 a me ovviamente comunque sono sempre le medaglie gini che che portano gli anni passati si poteva avere magari un'onda d'entusiasmo perché la gente finalmente vedeva l'atletica in tv quest'anno il problema è stato un po voi non vuoi le sette ore diffuso orario perché le gare del mattino erano la notte fonda quindi molte qualificazioni la gente se le perse le finali invece poi che avvenivano di pomeriggio da noi erano all'ora di pranzo e quindi questo ha portato sicuramente un aumento della visibilità però diciamo che la gara dei cento secondo me spingerà di brutto la gente a correre verso l'atletica fra l'altro col discorso covid se quest'anno si è visto notevole miglioramento perché l'atletica è uno sport che si effettua all'aperto si fa all'aperto quindi c'è stato una sorta di abbandono degli sport al coperto vedi pallavolo basket o comunque gli sport indoor e noi già quest'anno di covid avevamo visto notevole incremento di iscrizioni questo sì c'era già stato ok ok bene quindi speriamo che la cosa vada avanti in maniera che insomma non il covid diciamo no il covid no anzi parliamo proprio di covid allora tu sei stato come tecnico non solo adesso a tokyo ma avevi partecipato anche a rio quindi parlaci un po delle differenze che hai riscontrato ovviamente fra l'olimpiade in brasile e un'olimpiade in giappone dove però ovviamente ci sono tutte le restrizioni dovute appunto alla pandemia ma allora intanto a rio io ho partecipato con la nazionale san marinese mi è stata data una grandissima opportunità ho visto ho vissuto tutto il periodo sono arrivato addirittura dieci giorni prima per fare l'adattamento eravamo nella stessa palazzina del dell'italia quindi abbiamo vissuto proprio una sorta di gemellaggio rio è stata toda gioia toda bellezza non so come si diceva più o meno così era tutto bellissimo il beach volley si giocava a copacabana la cerimonia di apertura alla quale ho partecipato ci ha fatto entrare al mar cana cioè che di cosa vogliamo parlare tokyo invece tutta una restrizione purtroppo siamo da subito stati costretti a vivere nella bolla perché il giappone aveva messo delle restrizioni importantissime ogni giorno sono stati sottoposti a un tampone salivare tutti i giorni abbiamo cercato tutti giù tutte le mattine noi consegniamo una provetta e tutti i giorni veniamo testati perché non si verificano casi di positività all'interno del villaggio non possiamo uscire dal villaggio e questo dai in più c'è stato anche consigliato giustamente di non frequentarsi con altre nazioni perché comunque nel villaggio la maggior parte non sono vaccinati l'italia ha fatto un'operazione di vaccinazione molto ponderata a tappeto tutti i membri della delegazione guarda non dico tutti ma un buon 85 90 per cento sono vaccinati con due dosi hanno diciamo la cosiddetta il green pass ma le altre nazioni non hanno fatto la stessa policy e questo si ha causato comunque notevoli problemi anche a livello psicologico perché l'avere comunque la paura di infettarsi di essere costretto a una quarantena che qui andava da cinque giorni in caso di negatività ma di prossimità perché abbiamo dovuto scaricare un'applicazione di due applicazioni una per lo stato di stato fisico nostro e l'altra di prossimità come quella di immuni ok e quindi se andavi a contatto con un positivo andavi in quarantena o se c'era la possibilità di essere stati a contatto andare in quarantena a noi nel nostro team non è successo e mi tocco scusate la volgarità ma visto che la trasmissione si chiama scazzo moderato sarebbe un bello scazzo a casa mi tocco tutto perché adesso io voglio solo tornare a casa visto che il mio lavoro è finito non vedo l'ora e niente questa è la problematica principale il covid ha creato questa bolla questa restrizione non abbiamo potuto vedere nessun'altra gara lì fuori di quella per cui avevamo il pass cioè l'atletica leggera quindi noi facevamo tutti i giorni mattina e pomeriggio avanti indietro dal villaggio al lo stadio olimpico 30 minuti di bus andare 30 minuti di bus a tornare quando non andavamo lo stadio olimpico andavamo al campo di allenamento anche quello tutto in bolla cioè quindi partivamo da qui col bus scortato arrivavamo la scendevamo facevamo quello che dovevamo fare ritornavamo quel campo era utilizzato solo esclusivamente da atleti olimpici ok quindi quindi scusami giusto per chiarire tu comunque come tecnico hai potuto vedere solo le gare dell'atletica se volevi vedere la pallavolo sono stato fortunato direi perché almeno io mi sono goduto una settimana di gare dello sport che hanno mentre invece metti magari il tecnico della pallavolo che ne so esce in qualificazione ti rimandano a casa finito tutto lì certo 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 infatti noi abbiamo avuto una serie di debacle dalle squadre cioè una serie sono usciti tutti prima del previsto di squadra non sono andati bene malissimo sono andati non è una critica ma oggettivo diciamo che un paio di medagliette se l'aspettavano secondo me e invece questo non è caduto ma fa parte dei giochi ma proprio giochi olimpici in particolare la vogliono vincere tutti la medaglia è certo certo adesso abbiamo la fortuna che fra tre anni ci potremo già riprovare quindi vediamo ah io avevo guardato una partita della nazionale italiana di pallavolo ovviamente perché sono un ex giocatore di pallavolo avevamo vinto e avevamo vinto anche bene non so non ho avuto modo di vederle quindi non so dire che cosa sia successo però devo dire che ho un lavoro ho visto lupo nicolai spesso mi sono piaciuti molto poi però c'è sempre qualcuno più forte di te ecco io avevo guardato anche il beach volley però l'altra cosa l'altra coppia carambola carambola rossi no comunque loro che invece loro erano stati si si il catar li ha fatti fuori insomma i miei vicini di casa del catar comunque visto che parlavi dell'effetto psicologico insomma dello star chiusi in casa eccetera parliamo sempre dell'effetto psicologico una cosa di cui si è parlato abbastanza magari un po nei giornali italiani però io guardo molto tv e giornali americani e quindi lì se ne è parlato molto di questa atleta che si chiama simon biel un atleta di colore che è la più forte ginnasta americana di tutti i tempi se non la più forte ginnasta in assoluto di tutti i tempi per numero di medaglie vinte e risultati raggiunti la quale ad un certo punto si è ritirato dalle gare e poi ha fatto una conferenza stampa dicendo io non in questo momento mi devo fermare un attimo e occuparmi lei ha detto i miei demoni interiori quindi dicendo che aveva insomma dei problemi psicologici ora tu ovviamente hai fatto una vita l'atleta adesso segui altri atleti in quanto tecnico volevo chiederti un tuo commento su quello che è la pressione psicologica eccetera perché poi guardando la tv americana ho sentito alcuni commentatori sportivi che si riferivano oltre che a lei anche a michael fabbs una cosa che non sapevo che è il più grande nuotatore di tutti i tempi il quale in un'intervista ha detto che per ben due volte addirittura ha pensato al suicidio durante la sua carriera sportiva adesso si è ritirato quindi non so dammi dammi una tua impressione insomma su quello che è la parte che la vita la vita quotidiana al giorno d'oggi ti sottopone a stress enormi lavorativamente parlando siamo sotto stress tutto va veloce ci sono i social media che che necessitano di essere riformiti quotidianamente di informazioni nostre questo secondo me è un ulteriore aggravio poi ci sarebbe da dire che la pressione che subisce uno sportivo soprattutto se di elite e raggiunge l'apice altissima tu devi considerare immaginare una vetta altissima che potrebbe essere l'everest la la pressione atmosferica è altissima che quasi ti comprime i polmoni e questo secondo me succede agli atleti top come può succedere una persona normalissima che conduce una vita normale ed è sottoposta degli stress diversi ma non per niente inferiori noi la misura di sopportazione l'accogliamo solo quando la raggiungiamo veniamo diciamo così strappati via dalla nostra quotidianità io personalmente ho collaborato con atleti in particolare che però per rispetto non faccio il nome che è raggiunto l'apice è sottoposto a stress molto molto elevati è scoppiato cioè non non ha supportato lo stress non si è ritirato ma non ha più saputo rendere alla stessa maniera io dal mio canto ho vissuto situazioni analoghe stress e ritengo che sia necessario comunque sempre fermarsi e prendere fiato e riuscire a cogliere quello che poi è l'essenza della vita le cose importanti che non sono né il lavoro né nello sport per cui alcuni magari il lavoro stesso ma quello che siamo noi quello che sono i nostri equilibri i nostri pensieri è un argomento molto molto delicato grande rispetto per chi riesce a fare out in grande rispetto per chi prova a farsi aiutare così ci dobbiamo far aiutare così come se hai male a una gamba vai dal dall'osteopata o dal chiropratico o dal fisioterapista se hai male dentro devi farti vedere ma allora ti voglio però lanciare una mia riflessione e dimmi tu cosa ne pensi questa cosa forse diciamo che la pressione è più alta dove negli sport che non sono di squadra perché magari nel mondo per esempio non so calcio pallavolo basket dove tu sei all'interno di un gruppo la vivi diversamente rispetto invece uno sport dove sei più da solo e magari interiorizzi di più però questa è una mia personalissima butade che ti butto lì se secondo te può avere un senso cioè no perché non lo so non so dirtelo perché io sport di squadra li ho fatti solo a livello amatoriale la pressione o vogliamo chiamarla stress che è meglio di depressione forse lo stress può venire da qualunque cosa in qualsiasi momento da qualsiasi cosa che noi non siamo più in grado di sopportare che può essere nel rapporto di squadra nell'essere magari o sempre in panchina o nell'essere non essere considerato o nell'essere troppo considerato cioè sono sono gli estremi che toccano quindi in quei casi sia lo sport di squadra che lo sport individuale secondo me si equivalgono ok siamo noi il soggetto a rischio siamo noi va bene giulio ti ringrazio stasera abbiamo la staffetta 4 per cento dai eh ah ok allora prima di tutto invitiamo tutti a seguire gli amanti dell'atletica a seguire giulio su su instagram giulio ciotti grandissimo saltatore in alto adesso un tecnico che io ti seguo su instagram ogni tanto fai vedere gli allenamenti fai vedere delle cose anche io ti follow bravo e seconda cosa tifiamo oggi la staffetta a che ora in giappone 4 per cento adesso non lo so guardate basta guardare sulla gazzetta tanto ci sono sempre gli orari quindi andate sulla gazzetta.it guardate tifiamo tutti azzurri un saluto di nuovo grazie ancora giulio ci vediamo alla palestra ciao bello ciao oggi ciao ciao